ciao sono tuono quello che fa le quick scoop su code 5 oggi vi farò vedere un gameplay di tuono lotta libera ma che cazzo dici che sei una pippa ti fracasso come voglio smettila io sono campione di quick scoop e non pigliarmi per il culo ok ho dei sentimenti io ti scadino le chiappe forse non ci siamo capiti dai vieni qui che ti chiamo l'uavu nel culo ok dammi il tempo di calare le braghe e dammelo tutto fino in fondo please mi fai schifo sei una fogna ho solamente dei vizi come tutti io amo la minchia grossa mi puoi far felice sì o no io me ne vado va questo ericchio